Bentornati carissimi amici miei, siamo arrivati alla puntata 218 di Snap Architettura Imperfetta, il podcast che vi racconta la coevoluzione della professione dell'architetto e della tecnologia che usa per portare la pagnotta a casa. Iniziamo alla grande ringraziando di cuore Michele, il mio amico di lunghissima data, che ha fatto una generosa donazione al podcast per festeggiare i cinque anni di Snap. Grazie mille Michele, come sempre sei sempre al mio fianco, anche in queste avventure pazze, non solo in queste e anche in tante altre che abbiamo affrontato insieme nel corso della nostra vita e questo è l'ennesimo ringraziamento per la tua vicinanza. Vicinanza che non si esprime solo con questi gesti ma con tanti altri che rendono davvero vicino questa persona alla mia famiglia nonostante la lontananza che non è tantissima ma comunque tra una cosa e l'altra si fa sentire ma lui fa in modo di non farla sentire e questo è un ulteriore ringraziamento che faccio anche nel podcast ma tanto a breve lo vedo e quindi gli faccio i ringraziamenti direttamente di persona. Grazie ancora Michele. Un altro ringraziamento va a Daniele del podcast Il Tiraline che ha scoperto che in effetti metto su Spotify qualche sondaggio. In effetti sto sperimentando una nuova funzione di Spotify che riguarda appunto delle domande che si possono fare agli ascoltatori che in quel momento stanno mandando Snap nelle cuffie. La domanda che avevo posto era nella puntata 216 se non ricordo male in cui chiedevo come sembrava questa puntata. Il buon Daniele ha risposto aperte virgolette come al solito preciso e professionale. Ringrazio ancora Roberto per la citazione e la stima che è reciproca ad maiora. Chiuse virgolette. Grazie Daniele anche per questo aiuto che mi dai non solo rispondendo ai sondaggi che lascio all'interno di Spotify ma anche in background mandandomi sempre dei link e degli articoli molto interessanti che cerco di inserire all'interno della scaletta di Snap. Molti li ho già inseriti ma ce ne sono tanti tanti altri ancora. Ringrazio ancora quindi di cuore anche Daniele e a breve avremo anche il piacere di stare insieme durante il WWDC 2023 in cui faremo il commento in diretta. Sarà lunedì 5 alle 19 assieme ad Alex Racuglia, Filippo Strozzi, Daniele Borghi ed il grandissimo Davide Gatti che tra l'altro ci ospiterà sul suo canale YouTube. Siete tutti quindi invitati ci faremo delle risate e vedremo le novità. Per quello che riguarda il mio pensiero verso le novità che verranno presentate lunedì vi rimando al trailer che abbiamo registrato tutti insieme e che è disponibile sul feed RSS di Tecnopilz di Alex Racuglia. Tra le altre persone da ringraziare c'è anche Cristiano Cossu per un'email che mi ha inviato direttamente alla mia casella di posta elettronica. Oltre ad aver parlato dei possibili acquisti hardware che deve fare Cristiano per il suo ufficio e che riguarda il Mac e per questo vi do uno spoiler vi rimando alla prossima puntata che sarà molto molto interessante sotto questo punto di vista ma non vi dico nient'altro perché se no potrei rovinarvi la sorpresa ma tornando a Cristiano mi ha accennato che in effetti ha scoperto che ho un canale YouTube. Questo mi ha dato da pensare perché in effetti non ne parlo spesso forse non l'ho sponsorizzato abbastanza ma ho un canale YouTube che in effetti è appena nato ci sono in questo momento quattro video senza contare quelli che carico per il podcast e forse devo un po' più tingere questo canale all'interno dei miei vari canali social che utilizzo ora quindi ringrazio Cristiano per questa dritta che mi dà uno spunto per migliorare ma Cristiano non si è limitato a questo mi ha anche suggerito dei temi da affrontare per i prossimi video i quali accolgo a braccia aperte perché in effetti mi dice che qua in Italia non ce ne sono tanti e sta facendo fatica anche lui a trovarli e riguarda direttamente il concetto base che mi ha aspirato per il mio blog personale che si chiama Mac e Architettura che ricordo potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com e sono temi che riguardano appunto l'utilizzo del Mac nell'ambito dell'architettura grazie Cristiano per la dritta che mi hai dato sicuramente inserirò anche questi argomenti all'interno del mio canale YouTube che si chiama Architetto Digitale e se non lo trovate troverete il link all'interno delle note d'episodio oppure cercate semplicemente il mio nickname che è Architet Day come vi accennavo all'inizio in cui ringraziavo Daniele Borghi del Tiraline per le sue dritte ha messo un'altra bella e interessantissima novità all'interno del canale Snapper di Telegram. Questa interessantissima novità che come tutte le cose qua in Italia ci metterà un po' ad arrivare penso perché stiamo parlando di innovazione tecnologica e quindi non può essere diverso non peraltro ma perché vedete già col BIM che difficoltà abbiamo a dimenticare il CAD e a lasciarlo a casa questo parlo nell'ambito dell'architettura ma comunque questa novità interessantissima riguarda un incrocio chiamiamolo così tra il BIM e i robot che puliscono il pavimento. Non so che vi fa ridere questo accostamento ma secondo me è interessante perché parliamo di Dusty che permette di fare un tracciamento sul posto direttamente acquisendo i dati dal modello BIM. Dusty che è già carino come nome ma è anche carino come è stato costruito può stampare autonomamente un modello full scale sulla superficie di costruzione in una frazione del tempo necessario. Stampa in scala reale ad alta precisione parliamo di uno scostamento di un millimetro che nel mondo delle costruzioni vuol dire già precisione massima garantendo che tutto il materiale installato sia entro la tolleranza. Oltre a fare diciamo le linee che vengono tracciate con il gesso quello di cui siamo abituati a vedere in cantiere questo oggettino stampa anche etichette di testo garantendo una comprensione completa dell'intento della progettazione. Questo è molto interessante perché rimuove l'ambiguità ad esempio indicando quale sono il senso di apertura delle porte e anche l'orientamento delle apparecchiature. Quindi qual è l'obiettivo di questo plotter da cantiere che gira come un rumba per intenderci stampa questo modello in scala 1 1 direttamente sul piano di lavoro miticando qualsiasi errore di conversazione creando un risultato di layout che possiamo definire aperte virgolette quello che vedi e quello che ottieni chiuse virgolette. Vi rimando all'interessante video che potete trovare all'interno delle note dell'episodio e purtroppo non posso essere molto indicativo sui prezzi perché bisogna chiedere un preventivo comunque è qualcosa di molto interessante chiaramente funziona su superfici piane penso perché non lo vedo molto efficiente secondo me su superfici meno levigate di quello che può essere un piano delle fondazioni ma in ogni caso questo è un altro esempio di come una determinata tecnologia possa essere utilizzata grazie al beam beam che ricordo è la pietra miliare di noi progettisti che ci permetta di accedere non solo a questa tecnologia ma anche a tante altre e quindi dobbiamo un po cambiare marcia lo dico sempre tutte le volte e lo ricordo anche in questo podcast ma volevo ringraziare anche daniele del tiraline per questo bellissimo filmato e questo interessantissimo oggettino tecnologico che spero di vedere prima o poi all'interno di qualche mio cantiere a proposito di ringraziamenti questa puntata è densa di ringraziamenti volevo ringraziare alberto che ha fatto a sua volta anche lui una donazione su satis pay personale e per questo entrerà all'interno della lista nutrita dei pro snapper che potete trovare anche all'interno di ogni puntata grazie ancora alberto per questo gesto vedo che apprezzate il mio sforzo di mantenervi allineati al progresso tecnologico questi gesti ovviamente non mi danno solo una pacca sulla spalla per poter continuare mi danno veramente uno spintone e mi sento veramente contornato da amici di persone e di colleghi che sento riuniti attorno a snap a questo podcast nato appunto come mio progetto personale ma che sta diventando sempre meno personale e decisamente molto più collettivo avete sentito in questa prima parte del podcast che essenzialmente vi ho raccontato come le persone attorno a snap hanno contribuito essi stessi alla creazione della scaletta e penso che non ci sia risultato migliore per un podcast che avere non solo questo tipo di contribuzione dal punto di vista degli argomenti ma anche a gesti veramente notevoli come quelli delle donazioni vi ringrazio davvero tutti quanti per questo aiuto che state dando a snap e non mi rimane che continuare continuare e continuare in questo progetto collettivo prima di iniziare la seconda parte di snap immagino che abbiate notato che non ci siano pubblicità né all'inizio né alla fine della puntata e questo per ringraziare i vostri contributi che aiutano il network random radio a mantenere il servizio a pagamento che ospita non solo il mio podcast ma anche gli altri del network se volete fare una donazione avvertitemi che sarò ben felice di continuare a non mettere le pubblicità e per farlo basta andare sulla pagina ufficiale di random radio o nelle note dell'episodio oltre a non ascoltare le pubblicità sarete anche dei pro snappers come alberto michele bondanelli daniele borghi diego bortolato ferruccio della schiava mariano di benedetto nicola lo sito fabrizio loturco michele marco simone pizzi alex raccuglia matteo scandolin e filippo strozzi un sentito ringraziamento a tutti questi pro snapper che aiutano snap e non solo a stare in piedi il nuovo argomento di questa seconda parte di snap è la costruzione del più grande edificio stampato in europa in 3d si troverà nella città della scienza della germania ovvero eindelberg che ospiterà presto il più grande edificio stampato in 3d in europa la costruzione di questo progetto innovativo è iniziata il 31 marzo 2023 e dovrebbe essere completata entro la fine di luglio 2023 per i 3d in construction sta fornendo il know-how per il processo di stampa 3d e sta utilizzando la stampante di costruzione 3d 2 bod di cobod con sede in danimarca per modellare le pareti dell'edificio per i sta approfittando delle elevate velocità di stampa e prevede di completare le pareti in sole 140 ore utilizzando solo materiali riciclati al 100 per cento equivalenti alla stampa di 4 metri quadrati all'ora iniziato dal costruttore e sviluppatore krauss group e indelberg et server hotel slash cloud e data center salirà come un volume curvo con facciate ondulate tipico di una finitura di stampa 3d gli architetti ssv architecten e mens court hanno collaborato al progetto ed hanno dedicato molta attenzione al design unico del muro basato sul design parametrico lo speciale design della parete utilizzata nell'edificio documenta l'immensa libertà di progettazione che la stampante 3d cobod bod 2 consente ai progettisti per quanto riguarda le dimensioni la struttura è lunga circa 54 metri larga 11 e alta 9 metri il che la rende davvero il più grande edificio stampato in 3d d'europa finora con questo a differenza dei tradizionali edifici in cemento le emissioni di carbonio del progetto dovrebbero essere ridotte del 55 per cento una testimonianza dell'essenza sostenibile dell'architettura di stampa 3d conclude enric lund ninsel fondatore direttore generale di cobot aperte virgolette in questo progetto unico peri sta sottolineando due dei principali vantaggi della stampa 3d per la costruzione velocità di esecuzione e libertà di progettazione per questo motivo la nostra tecnologia è in grado di realizzare tutto dalle torri di un mulino agli alloggi residenziali a basso costo in africa agli edifici architettonici di tipo ufficio in germania chiuse virgolette come vedete ne abbiamo parlato spesso qui su snap architettura imperfetta la stampa 3d degli edifici sta galoppando veramente a velocità luce perché come per magia siamo passati dai semplici edifici residenziali a edifici di dimensioni decisamente più ampie una velocità di esecuzione così non è nemmeno paragonabile a quello dei prefabbricatori che credo che a questo punto si troveranno in difficoltà a competere contro la stampa 3d molto interessante lo sviluppo di questa tecnologia e personalmente sono certo che ne vedremo ancora delle belle ora lasciamo l'argomento delle stampa 3d per approdare ad un tool per noi architetti vi ricordate che vi avevo parlato di spaces quell'applicazione che è metà tra lo schizzo e un modello bim praticamente davvero davvero molto interessante come concetto e ve ne volevo parlare perché recentemente oltre ad aver aggiunto delle capacità multicore che permettono di sfruttare pienamente tutti i core di apple silicon sugli ipad è stato aggiunto un motore di riconoscimento degli schizzi con le maggiori prestazioni offerte dallo sviluppo del multicore spaces ha potuto continuare a studiare modi per utilizzare questa potenza per rendere spaces più veloce e più preciso in modo che il progettista possa concentrarsi puramente sul proprio design infatti lo schizzo è una parte fondamentale di spaces e mentre veloce ti permette di esplorare liberamente è anche un po impreciso questa imprecisione va bene durante la prima fase di progettazione che riguarda l'esplorazione tuttavia mentre si sviluppa le proprie idee e si inizia a concentrarsi sul concetto specifico immagino che tutti quanti vogliono aumentare l'accuratezza del proprio disegno combinare la potenza dello schizzo con la potenza dell'ipad ad esempio durante lo schizzo spaces può confrontare ogni tratto disegnato con i tratti esistenti e gli elementi del modello per agganciare il tratto parallelo o perpendicolare oppure se si sta dividendo il progetto in più spazi i propri tratti possono essere agganciati automaticamente agli elementi esistenti per garantire giunzioni accurate che portano a un modello pulito e preciso vi ricordo che spaces è davvero molto interessante perché da uno schizzo si può passare al modello tridimensionale con una semplicità addirittura sbalorditiva permettendo però anche di avere tutti i dati relativi agli spazi che vengono disegnati direttamente all'interno di spaces per pianificare correttamente lo spazio e ovviamente avere un po di dati all'interno di ipad che però possono anche essere esportati in formato ifc e obj vi esorto a provarlo perché c'è una prova gratuita dove potete fare un po quello che volete con pochi progetti ma intanto iniziate a provarlo che sono certo vi lascerà a bocca aperta ed a proposito di rimanere a bocca aperta più che altro per il continuo sviluppo di queste tecnologie parliamo di gemelli digitali tanto per cambiare questa volta parliamo di bmw che ha implementato la piattaforma dei gemelli digitali di nvidia omniverse così bmw adesso può progettare costruire e testare i suoi impianti di produzione in un ambiente virtuale anni prima di costruirli fisicamente la casa automobilistica prevede di utilizzare la realtà virtuale per ottimizzare tutti i suoi futuri impianti di produzione e lo farà costruendo e gestendo applicazioni metaverse industriali attraverso la sua rete di produzione in tutto il mondo nella fattispecie si sta testando l'impianto di de breken in ungheria non so se l'ho letto giusto che è la seconda città più grande della nazione e la sua produzione fisica non dovrebbe iniziare prima del 2025 tuttavia i progettisti e gli ingegneri di bmw di tutto il mondo possono avere un'idea accurata di come funzionerà prima che venga posato un singolo mattone il fondatore e CEO di nvidia jensen wang ha condiviso una dimostrazione del gemello digitale di nvidia omniverse e ha commentato aperte virgolette siamo entusiasti e incredibilmente orgogliosi dei progressi che bmw ha fatto con omniverse la partnership continuerà a spingere le frontiere dell'integrazione virtuale e degli strumenti virtuali per la prossima generazione di fabbriche smart connect in tutto il mondo chiuse virgolette come sapete la piattaforma dei gemelli digital di nvidia omniverse è in sviluppo da oltre 25 anni di lavoro ciò include la grafica nvidia l'elaborazione accelerata la simulazione e le tecnologie di intelligenza artificiale ciò consente alle aziende manifatturiere di pianificare e ottimizzare progetti di fabbrica multimiliardari interamente in un mondo virtuale di conseguenza possono arrivare alla produzione più velocemente ed operare in modo più efficiente non solo si può anche ridurre il time to market e aumentare la sostenibilità evitando errori potenzialmente costosi in una demo è stato messo in evidenza una sessione di pianificazione virtuale per lo stabilimento debriken di bmw con omniverse i team bmw possono aggregare i dati in modelli massicci e ad alte prestazioni possono anche collegare i loro strumenti software specifici e consentire la collaborazione live multi utente in varie località tutto questo è possibile utilizzando qualsiasi dispositivo collegato in qualsiasi luogo la capacità di lavorare nella fabbrica virtuale due anni prima della sua apertura consente al bmw group di pianificare un funzionamento regolare e un'efficienza ottimale l'impianto virtuale debriken di bmw group illustra la potenza e l'agilità della pianificazione di impianti di produzione industriale basati sull'intelligenza artificiale utilizzando la piattaforma nvidia omniverse nella dimostrazione della fabbrica è stato visto come il team bmw abbia cercato di includere un robot in uno spazio limitato il team ha risolto il problema al volo con pianificatori di logistica e produzione in grado di visualizzare e decidere il posizionamento ideale questo tipo di trasformazione digitale sembra certamente ripagare nel tempo perché la modifica e l'ottimizzazione degli impianti di produzione esistenti sono sempre molto costosi inoltre provoca anche costosi tempi di inattività della produzione quindi avere la capacità di pre ottimizzare gli impianti di produzione riduce significativamente tali costi penso che questo sia tutto noto a chi utilizza il bim e ha visto come si riesce a regolamentare a studiare e soprattutto a lavorare in sinergia per ottenere il miglior prodotto possibile passando dal progettista arriviamo però anche a bmw che ha impianti di assemblaggio fabbricazione e progettisti industriali in tutto il mondo ha anche un complesso processo di pianificazione e la casa automobilistica utilizza molti strumenti e processi software per connetterle persone attraverso le aree geografiche e fusi orari il che presenta una varietà di compatibilità di pianificazione e problemi logistici la piattaforma di sviluppo del gemello digital di nvidia omniverse si basa sull'uso di usd della pixar questo è un linguaggio di calcolo 3d aperto e basato su standard che consente un interoperabilità relativamente semplice tra varie suite di software pertanto bmw è in grado di collegare software e repository di dati esistenti dai principali strumenti industriali di progettazione e ingegneria assistiti dal computer come siemens process simulator autodesk revit e bentley system microstation con questa visione unificata i team interni e i partner esterni di bmw group possono collaborare e condividere le conoscenze questo può essere combinato con i dati delle fabbriche esistenti per aiutare nella pianificazione e nella costruzione di nuove strutture inoltre il team bmw sta sviluppando una suite di applicazioni personalizzate con nvidia omniverse includendo una nuova applicazione chiamata factory explorer basata su omniverse usd composer un'applicazione di base personalizzabile della piattaforma omniverse così bmw ha utilizzato i componenti principali di usd composer e aggiunto estensioni personalizzate su misura per l'esigenza dei suoi team di pianificazione della fabbrica tra cui la ricerca la costruzione la navigazione e l'analisi dei dati di fabbrica e che altro dire questi gemelli digitali incominciano a far vedere i propri muscoli e soprattutto vediamo le applicazioni all'interno del mondo dell'industria che di fatto sottolineano come questi strumenti utilizzati all'interno di un ambiente di progettazione con metaverso e strumenti informatici come omniverse riescono a rendere molto più veloci i tempi di consegna e di realizzazione viene tutto studiato a tavolino in un mondo virtuale come più o meno facciamo con i modelli tridimensionali virtuali all'interno del software di bim autoring solo decisamente molto più scalati e ovviamente con molte più problematiche che vengono risolte comunque in modo tutto sommato semplice perché stiamo parlando di un impianto di costruzione di auto che non è proprio proprio la cosa più semplice da fare per un progettista direi che per questa puntata è tutto non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di snap architettura imparfetta vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato col supporto tecnico e morale di alex arcuglio e matteo scandolin e che fa parte del network runtime radio la web radio geek ci sentiamo nella prossima puntata di snap architettura imparfetta un podcast color grigio ciliegia